Piedino per bottone. Applicare bottoni a due fori. Potete utilizzare questo piedino per applicare in maniera semplice e veloce bottoni a due fori. Per inserire il piedino far scorrere la barra sulla parte posteriore del supporto del piedino ed abbassarla per assicurarlo alla macchina. Alcune macchine hanno la funzione cuci bottone che vi permetterà di abbassare automaticamente le griff trasporto. Potrete comunque utilizzare anche lo zigzag, facendo attenzione ad abbassare manualmente le griff trasporto. Posizionare il bottone sotto il piedino ed abbassarlo. L'estensione di gomma manterrà fermo il vostro bottone mentre verrà cucito. Posizionate il bottone in modo che l'ago penetri al centro del foro di sinistra del bottone. Per fare ciò, vi basterà utilizzare il volano per abbassare manualmente l'ago. Continuate quindi ad utilizzare il volano per far andare l'ago su e giù e per farlo poi penetrare nel foro destro del bottone. Regolate se necessario il vostro punto in modo che l'ago penetri giusto al centro del foro. Quando siete pronti, iniziate a cucire. La macchina legherà automaticamente il filo. Quindi, alzate l'ago e tagliate il filo.